Ciao ragazzi sono Fran50, oggi è il primo video che faccio con le cuffie ma perché è per sentire meglio il suono e... stiamo su Slenderman l'obiettivo di questo gioco è trovare 8 pagine sono nascoste nei bagni, nelle case e negli alberi e allora sto gioco qua fa paura skip entro perfetto allora questo qua è il gioco dove non si può correre più veloce di così ecco mi sa che in sto albero qua si trova già una pagina mi sembra, non mi ricordo bene ma così si spegne la luce e così si accende ok ti prego dimmi che qua c'è una pagina niente, non c'è niente mi ricordo che in un albero gigante c'era un foglio forse questo no, sono due alberi ecco c'è una case là non ci sono mai arrivato fin qua perché non ho mai visto sta cosa qua proviamo ad andare a vedere ho già i brividi vediamo ma proviamo ad entrare dentro la casa vediamo se si può qui eh, mi sa eccolo qua un foglio una pagina sotto abbiamo preso adesso lo slenderman inizierà a prenderci a rincorrerci e farci fare una cosa da paura ecco, sentite i passi questo è lui che mi vuol fare cagare sotto ragazzi ho paura ok, poi ci sono i bagni madonna che paura che c'ho nei bagni aiuto entro, vabbè dai entri merda sto vivendo addosso merda merda ragazzi aiuto c'è una serie ribaltata qua merda ragazzi usciamo subito ci sto giocando per voi eh sto gioco perché se lo me l'ha chiesto un mio amico che lo lascerò anche in descrizione del video perché guarda non ci sto giocando per voi proviamo merda mi fa troppo paura questo gioco merda sembrava di aver visto qualcuno questo fumo di merda dove cazzo arriva oddio non mi laggare sto cagando adosso lo giuro non farò più video di sto gioco ci sto cagando adosso dove devo andare questo devo fare non ho la minima idea di dove possa essere l'altra pagina ma minima eh ragazzi avete capito minima perché fa sti passi qui questo fumo nero non si vede niente oh qua forse c'è la terza pagina vai dai che forse l'abbiamo trovata dai raga ti prego non fatemi bestiammiare eccola qua questa qua no è la due merda penso che fosse la terza adesso moriamo solo la seconda poi che non c'è niente che riferimento non si sa si può correre cioè se ti becca sei morto per forza oh merda oh merda oh merda 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 si vede malissimo si sta avvicinando mi sa mi sta avvicinando raga si non me lo dire sono riuscita a scappare da Slenderman non è vero come ho fatto ho paura di accendere la luce io adesso vai l'accendo oh merda pensavo che trovassi subito lo Slenderman scappiamo stavamo morendo eh se non sbaglio era là merda si vede malissimo si sta avvicinando raga che sto a fare non mi giro non mi giro oddio siamo scappati di nuovo non è possibile sta rivenendo sta ritornando che palla mi sei andato no è vicino quanto siamo culati noi cioè se ritorna mi sa che devo cambiare strada io non so dove cazzo devo andare ho troppo culo io secondo me ho trovato la terza pagina siamo malati tre su otto siamo pazzi quasi la metà non ce l'ho mai fatto trovare in tre fatti adesso moriamo tanto fatti adesso moriamo tanto sto gofando forse porca trovi hai sentito il rumore stranissimo porca no per fortuna che avevo gli occhi quasi chiusi perché stavo stavo riflettendo sul gioco che stavo facendo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un pollicello in su cioè un like per forse il prossimo episodio e noi ci rivediamo nel prossimo video bella ragazzi bella ragazzi anche se bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi